No, non mi sono buttato. E' anche molto. No, è molto. No, è un po' culo. Tu vai dentro e tu vai dentro. Ci vediamo poi a metà secca. Dai, ci dobbiamo da questo. Dai, io da scalini mi abbraccio. C'è gente che non ha tezzone qui. Buon saluto. Buon saluto. Luis, non vuole lanciare la dentiera. Mi dobbiamo lasciare la scuola. Luis, ma che farà mi fare l'educazione? Mi dobbiamo lasciare la scuola. Mi dobbiamo lasciare la scuola. Dai, io da buon saluto. Sfigo, pooh! Mi dobbiamo lasciare la scuola. L'agga, l'album bò. Mi dobbiamo lasciare la scuola. Luis, è giù per me. Luis, è giù per me. Luis, è giù per me. Ahiyah! 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 You're the best man! Right, 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 right? That's all right. I don't know what the camera went on. Yeah, no, sir. It's fine. See the mission drive, don't you? Ahiyah! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.